Come Assessorato Ambiente abbiamo ritenuto più che interessante, anzi doveroso e interessante collaborare con l'Assessorato Politiche Sociali, Ufficio Nidi nel dettaglio, a questo progetto, a questo piano dell'offerta formativa. I bambini sono il materiale umano su cui dobbiamo investire e si investe attraverso la conoscenza e il loro inserimento in un ambiente senz'altro figlio della cultura moderna, ma anche richiamando delle antiche suggestioni, quindi mettendoli a contatto con materiali naturali che per noi che siamo genitori o anche per i nonni sono naturali nei ricordi anche, cioè siamo abituati a ricordare quando giocavamo con i tronchi, con i rami. È stato emozionante partecipare in questo senso ad un seminario organizzato dall'Assessorato Politiche Sociali, all'interno del quale un ingegnere pedagogista ha illustrato con molta semplicità quali sono i valori aggiunti di questo tipo di attività. Il bambino incontra problemi o pericoli sia utilizzando per esempio un pennarello che è un ramo, la cosa per una persona che non è abituata a pensare in questo senso è sbalorditiva, in realtà è molto semplice. In questo senso abbiamo ritenuto come Assessorato di mettere a disposizione parti di piante che purtroppo sono da abbattere, sottolineo purtroppo perché è doloroso per un Assessorato che si occupa del verde dover agire in questo senso, però cosa succede? Quelle parti hanno una nuova vita, la nuova vita è nel gioco dei bambini, nella loro esperienza e nella loro maturazione. Questo progetto oltre a partire in questo modo, quindi con le sole e tra virgolette piante, avrà sviluppi futuri perché abbiamo intenzione nel prossimo anno di costituire all'interno dei nidi e delle scuole, vedendo evidentemente dove sarà possibile per condizioni logistiche, economiche e quant'altro, costituire dei, ad esempio, laghetti per la coltivazione di libellule che sono antagonisti naturali delle zanzare, pipistrelli, cioè attivare nei bambini un senso di comprensione piena della realtà che li circonda e che caratterizza bene o male il nostro territorio. Importantissimo, e lo sottolineo, è questo spirito di collaborazione che lega i settori. Non esistono progetti singoli che abbiano il respiro che possano avere progetti collettivi.